Acquisire maggiori competenze alla guida per essere pronti in ogni situazione, in particolare in caso di emergenze, dove è richiesta una maggiore velocità di reazione e senza però abbassare i livelli di sicurezza. Con questo obiettivo è stato organizzato il corso di guida sicura per ambulanza della SIX Academy, che ha visto la partecipazione di una delle più antiche confraternite dell'Aquila, le Misericordie. È una confraternità che esiste nel 1422, ovviamente abbiamo necessità di tenerle il nostro personale formato e quindi abbiamo chiesto alla SIX di organizzarci questo corso di guida sicura per tutti i nostri soccorritori autisti e per le ambulanze. Il corso intensivo che si è tenuto dentro d'acqua domenica scorsa ha visto i partecipanti impegnati in una preparazione teorico-pratica. I ragazzi discenti sono dimostrati attenti all'altezza di quello che stanno facendo e sicuramente queste competenze acquisite avranno modo di metterle in pratica sul loro lavoro, sulla loro attività associativa. A tracciare un bilancio del corso Fabrizio Bucci della SIX Academy. Un bilancio sicuramente positivo, visto l'interesse che c'è stato. Un ringraziamento sicuramente va ad Alfredo e alla sua associazione per questa attenzione che hanno mostrato nella guida sicura che sicuramente è un aspetto fondamentale, se non prevalente, del loro lavoro. Vorrei ringraziare anche il sindaco di Introdacqua, ovviamente, che ci ha permesso di avere questo spazio a disposizione e soprattutto è sempre attento a queste iniziative. Il corso non è soltanto rivolto agli autisti di ambulanza? In realtà questa tipologia di corsi è rivolta a tutti. Consiglio strettamente personale anche ai neopatentati, perché ha delle competenze in più a quelle che sono fornite dalla scuola guida. In ambiente lavorativo può essere certificato a sensi dell'8108 e portare quindi a dei sgravi contributivi sui contributini, con un modello che si chiama OT24.